Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph, e chi soggiorno giochiamo a Roblox E siamo tornati nel nostro parco giochi C'è una cosa che voglio dire subito Ok Diversi consolini ci hanno fatto notare nei commenti Che puoi impostare anche me come costruttore Io quando ho letto quei commenti Sono totalmente impazzita Perché pensavo che ci dovessimo fare per forza i parco giochi separati Esatto Invece adesso potremmo contribuire, scusami Sì Anche io e il signor maialino E sono felicissima, lo possiamo fare tutto assieme Questa cosa è epica, migliora di tantissimo la serie ragazzi Ora possiamo fare davvero cose fantastiche Allora, devo dirti una cosa Ok Nella mia spalla oggi c'è di nuovo signor maialino No Dove sei? E sono all'entrata nelle strisce pedonali Non me ne ero neanche accorta e neanche ti avevo visto Dove sei? Perché hai ancora signor maialino? Perché te ne sei innamorato No Te ne sei innamorato anche tu non puoi più farne a meno È impossibile una cosa del genere Leggi il nome del parco? Ok E quindi che c'entra signor maialino? Deve soffrire a vedere il parco di Capitan Jeff Quindi l'ho messo anche nella mia spalla Perché voglio vedere tutte le smorfie che farà Nel vedere l'epicità di questo parco bellissimo Quando me ti sta vomitando nella spalla Non vorrei dire però No, no È debole di stomaco, capito? Quindi non gli puoi far vedere queste cose Dopo gli prende il nervoso, capito? Finisce che fa cose brutte Se lo è meritato Se lo è meritato, guarda Allora Dopo che non mi ha fatto funzionare l'elicottero in Trilence Se lo è meritato Veramente eri solo tu scarso, scusami Non è vero Dimmi Specifichiamo le cose che eri tu scarso Non so per guidare un elicottero Scusami, al giorno d'oggi chi è che non sa guidare un elicottero? È vero, vai Questo è quello che gira Credo di sì Quello che gira così a testa in giù Ti stavo dicendo Anche se ce li ho bloccati Ci sono gli scivoli d'acqua Uh Gli scivoli d'acqua Cioè ti rendi conto? Uh Sì ma Sai che puoi fare una piscina? Oh mio Dio Aspetta Vedo se riesco a fartelo vedere Cioè diventa proprio un parco giochi A tutti gli effetti Davvero assurdo Allora Vediamo se riusciamo a fare una piccola piscina La piscina poi penso servirà per cadere nello scivolo d'acqua pure No, puoi proprio fare una piscina per notare basta Perfetto, bellissimo Tipo cosa ne so, io faccio così Allora Facciamo subito una cosa importantissima Sì Sistema questo gioco che lo voglio provare Voglio vedere come funziona Lo sapevo Voglio vedere quale Sì Ebbè le giostre le dobbiamo provare prima di tutto Noi non le proviamo nella realtà almeno qua Non c'è bisogno di specificare che non le proviamo nella realtà Allora mi devi dare una mano Ok Praticamente da lì vedi che c'è tutta la queue La coda Sì Ok quindi dobbiamo far arrivare questo path da un'altra parte Perché se arriva lì lo sai che si iniziano a incastrare i clienti Vai dritto 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 Secondo me lo puoi ricollegare Così Ok Sì 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 Vero Va bene va bene Sì E poi Lasciò anche così così Allarghiamo E qua lo lasci vuoto? Dov'è? No Metti Vabbè ti posso aiutare dai tanto alla fine Infatti perché stai diventando fermo a guardarmi? Perché non sono ancora abituata al fatto che posso costruire anch'io È stranissimo Vedi così Così Ok Anche perché qua poi ci possiamo mettere un altro punto di ristoro Perché guarda iniziano ad essere lontani Vedi che sull'izio Magari un tavolino e qualche alberello Magari cosa ne so dei gelati che penso ci possono star bene qua Ok poi vediamo un pochettino cosa fare Andiamo Allora Li vogliamo dare un nome? Alla giostra? Sì Allora Vai La giravolta La giravolta Del terrore Del terrore È terribile Lo so Non mi chiedere nomi davvero Aumentiamo subito a 20 il costo E apriamo Allora dobbiamo aspettare che entrino clienti vero? Sì ma ti puoi interessare Oh mio Dio premi due volte F Perché questa è l'altra cosa che già hanno spammato tutti Ma io non riesco a prenderla neanche mezzo No Vai in un altro posto Perché non mi fa salire No non la fa salire ragazzi Non riesce a salire Come stiamo andando? Come funziona? Funziona è quella che gira su se stessa ma gira anche È d'ondola No è anche al contrario dovrebbe andare Scusa guarda com'è la giostra guardala Guardala per ora così facciamo capire il movimento Penso che poi prenda velocità e fai anche il giro al contrario capito? Spero di no Vedi che sta prendendo velocità Oddio No guarda in prima persona Yeah Fa venire brutta moglie Questa è l'unica giostra che proveremo nella nostra vita Oh mio Dio siamo velocissimi Vedi te l'ho detto che puoi dire Guarda guarda come siamo Oh mio Dio No no mettilo 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 Guarda come siamo In questo momento noi abbiamo una stellina Ok Come si fa a farla aumentare Non ho un'idea Ok No no lo so neanche io Guarda se c'è qualche opzione che magari ti dice No 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 non ho trovato nulla L'unica cosa che so è che in questo momento siamo molto poveri Ok E questo è un bel problema ovviamente Allora ho notato che la macchinetta piace troppo Perché comunque ha solo due posti E quindi deve essere un po' più esclusiva E certo certo Proviamo ad aumentare un pochettino Qui ci sono fontane da mettere C'è di tutto La tazza invece non sta più piacendo Quindi la facciamo scendere a 13 Guarda qua Guarda quanta fila c'è già di nuovo Guarda quanti ce ne sono Io l'aumento 25 Via Sì 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 Assolutamente sono d'accordo Vogliamo i big money qua Sì 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 Eh vabbè Se vedi che va di moda è normale che il prezzo vada aumentando Esatto Bisogna gestire bene tutti i prezzi Allora mettiamo un cestino qua Io sto continuando a mettere cestini Che bellina Ne servono anche qui dove sono io adesso Metto qua Dove sto pulendo Perché ce ne sono appunto anche qui Siamo saliti di una stellina Non si sa come ce l'abbiamo fatta Siamo due Siamo due stelline Perfetto Dai sono felice Sono felice Voglio vederlo da fuori Voglio vedere da fuori le due stelline Invece che una Fammi vedere Fammi vedere Guarda Oh mio dio Il capitano Jefflandia Sta andando benissimo Hai visto Guarda Il signor maialino si sta arrabbiando Spendiamo tutto Avevamo promesso una cosa Le nostre prime montagne russe Facciamo quelle junior Quelle da bambini Così sono Così ci alleniamo Sì esatto Perché ne hai due tipi Guarda guarda aprilo Ci sono quelle junior e quelle steel Quelle steel credo che siano più grandi Vedi le altre invece sono bloccate No Oh mio dio ci sono quelle che vanno inverse Ma tu ce li hai forse io No Fammi vedere Fammi vedere Sì io non ce li ho quelle Perché ho costruito meno di te Ti faccio vedere Guarda Ok Qui hai l'achievement Tipo se tu fai Ah ok Lo sblocchi Capito Ok ho capito Facendo livello Le due steel line Credo di aver sbloccato L'inverted costa Infatti me l'ha appena confermato Ok ok Allora Quelle iniziamo Quelle junior Sì Io pensavo di fare da qui Una stradina Ok Sì Classica Bellina Sì 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 Andiamo abbastanza in profondità Ok Ok e qui iniziamo Perfetto Allora selezioniamo il rollercaster junior Ok Allora inizia tu Perché altrimenti facciamo un disastro Da qui Va bene Sì Ok Aiuto E poi Funzionerà Questo è il brakes Che credo sia quello per rallentare A noi servirebbe anche un booster No ma non dirmi che adesso devi fare tutto il percorso con le accelerate e le cose che rendi Guarda No non ci credo Sarà complicatissimo Non ce la faremo mai Non ce la faremo mai Belline che passano qui dietro Fai una bella discesa pericolosissima dai Ma è per bambini E non mi interessa vai Aspetta non capisco Devi scendere Devi scendere Che hai fatto? Non lo so ho messo un blocco diverso Stavo giusto provando Posso entrare a salire sopra Ecco sì così No 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 Cado di sotto Volevo vedere cosa stai costruendo più dall'alto Ok Guarda Non so se funzionerà Io non lo so se funzionerà Se l'abbiamo fatta bene Perché è davvero complicato fare le montagne russe Però la proviamo noi stessi e vediamo un po' se va Esatto Allora hai aperto al pubblico? No ancora no Pronta? Vieni con me Vieni ci mi stendiamo nel primo vagone Ok Oh mio dio Vieni Ci sono Nel primo per forza Ci sono Parte da sola che dici? Appena arrivano i clienti come sempre Potrebbe non funzionare Te lo dico Vediamo? Potrebbe totalmente non funzionare Anche secondo me potrebbe essere che ci uccidiamo tutti i clienti Sì 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 È noi stessi Speriamo di no È noi stessi Almeno c'è da dire che noi le cose le costruiamo e le proviamo Abbiamo capito questo coraggio Ok La prima cliente Primo cliente Primo cliente Dai salite Venga venga Salite tutti Non venire dove siamo noi Grazie No No Ecco qua Ti ha inglobato Esatto Vabbè Sta arrivando anche Adaline Oh mio dio Oh mio dio Stiamo iniziando Oh mio dio Prima persona Vediamo vediamo Ma noi non riusciamo neanche a salire Ah stiamo tornando indietro È un flop Ok no 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 Allora richiudile e modifichiamo che queste figuracce sono incredibili Chiudi immediatamente le montagne russi Lo sapevo che non avrebbe funzionato Lo sapevo Allora richiudile e modifichiamo che queste figuracce sono incredibili Allora richiudile e modifichiamo che queste figuracce sono incredibili Riproviamo riproviamo e vediamo se questa volta va Questa volta secondo me è più epica di prima Allora abbiamo messo pezzi che accelerano in tutte le salite In tutte le salite Spero che dopo che finisca la salita quindi nella discesa non c'è bisogno di freni per rallentare anche lì Perché non so se sono freni proprio per arrivare a fermare la corsa o per rallentare Non lo so proveremo Spero solo che funzioni Nel caso si rifà per una terza volta che ti devo dire Dai Dai speriamo Dai Comunque è carina ti è anche uscita più carina si vede che ci è preso un po' alla mano Difficilissimo però ragazzi cioè è davvero bellissima come mappa C'è se ci rimani dietro e cerchi di capire piano piano è davvero fantastica Allora tengo in terza persona perché voglio vedere se questa volta riesce a salire Ok stiamo salendo dai Sì 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 Guarda Era della prima persona Vabbè poi come le montagne russe giuste che alla fine durante tutta la C'è la discesa C'è la discesa Aiuta Durante tutta la salita non c'è catene Forse dovevamo ottenere le catene anche lì No 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 prendo velocità Oh mio dio è bellissima Oh mio dio È bellissima Adesso frena Fermati e dimmi che funzioni Sì Sì Ha funzionato È bellissima È bellissima ti giuro è stata bellissima Allora Dedicheremo io te lo dico già Un intero episodio a costruire delle montagne russe ancora più epiche Se non ci vengono idee guardiamo immagini su internet E cerchiamo di rifarle così perché secondo me se ne fai una gigante è epico E oltretutto penso che puoi fare anche qualche montaniero Sa che passa tutta dentro il parco capite Puoi fare cose improponibili ed è per questo che questa mappa è fantastica perché Puoi fare davvero di tutto cioè è davvero 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 bellissima Comunque ho notato che c'è un po' troppa clientela che va in giro e non sfrutta nessun tipo di attrazione Questa cosa Non lo so Allora la macchina a quanto pare ho esagerato Torniamo a 20 perché i clienti non ci stanno più andando Le tazzine piacciono e stanno ancora entrando La torre d'osservazione sì eppure il drop tower Gli anelli sì ok no è tutto giusto è tutto giusto Guarda quanta gente stanno andando nelle montagne russe Eh perché è nuova quindi sono tutti là E siamo saliti a due stelle e mezzo Perfetto bello questo Sì 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 Sta iniziando a funzionare davvero benissimo Secondo me conviene fermarci così perché per il prossimo episodio facciamo l'episodio a tema acqua A tema acqua Sì guarda cosa ti faccio Vieni con me Sblocchiamo questa parte? Ho sblocato solo quella Hai sbagliato Sei un fail vivente Dai sblocca tutto Quanto costa? Molto? 5000 non è neanche troppo Ah ok no non è troppo E qui facciamo la parte tutta a tema acqua? Sì Prossimo episodio Tema acqua Tutto Felicissima Tutto 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 Signor maialino sta rodendo dentro Non è vero lui è un signore non ti dimostrerebbe mai una cosa del genere No 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 guarda questa volta gliel'ho fatta guardala com'è arrabbiato Lo so lo so che si è arrabbiato tantissimo per Capitan Jefflandia non l'ha digerita proprio Anche perché Penso che ti cambierà il nome del parco Con due stelle e mezzo è proprio un signor parco Cambierà il nome del parco attento Quindi ritrovi cose brutte Non ha questo potere Tu pensa a non perdere d'occhio il tuo parco giochi Mi stai minacciando? No È una minaccia questa? No no tranquillo Dormi sonni tranquilli Non ti preoccupare Ti spacco la macchia Bene ragazzi vi piaceci così Se ci lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao ciao Ciao